Qui è la zona campionario, che è il cuore dell'azienda, in quanto da qua partono i prodotti, le campionature, nonché i costi e quindi i prezzi di ciò che verrà venduto nel mercato. Chiaramente questa qua è la parte più importante e anche difficile perché la creazione dei vari modelli ogni volta è una... È difficile perché bisogna sempre creare qualcosa di nuovo e la moda si sa che è come un'opera d'arte che nasce proprio dalla... Fatto 100% a mano. Esatto, tutto fatto a mano, cuciture, la campionatura nasce proprio dalla creatività, dalla scelta dei tessuti, dopodiché bisogna appunto andare a fare la modellistica che è poi la base della vestibilità e quindi anche della... Tanti campioni. Potenzialità di essere venduto perché la clientela poi dovrà indossarla chiaramente e se si sbaglia il modello anche la vendita viene meno. Grazie mille.